Giornata di doni all'ospedale di Pescara. Destinatari, i bambini. Arrivata come consuetudine da otto anni a questa parte l'arma dei carabinieri con un tanto di babbo natale al seguito. La Dricesta anche stavolta ha fatto centro. L'assessore e presidente dell'associazione Carla Panzino ha la testa della schiera di regali consegnati camera per camera a chi suon malgrado è costretto ad un Natale in corsia. Contenti, contentissimi, tanti piccoli, così come sindaco e i membri dell'arma stessa per quello che è ormai un appuntamento consolidato. Bellissima iniziativa natalizia, devo ringraziare chi l'ha organizzata, ringrazio l'assessore Carla Panzino, ringrazio il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Galanzi e tutta l'arma per l'allestimento di questa giornata e per il fatto che si riesca a regalare un sorriso ai bambini che soffrono. Questo babbo natale tra qualche minuto regalerà la gioia e anche la sorpresa ai bambini in corsia. Sono quelle belle manifestazioni natalizie, devo dire che la città è ricca di iniziative di questo genere e questo non può che farmi piacere da primo cittadino e questa è veramente una bella manifestazione. Che quest'anno l'arma dei carabinieri non ha voluto far mancare il proprio affetto verso quei bambini che soffrono ai quali vogliamo donare un sorriso con un pensiero che tutti i carabinieri della provincia di Pescara hanno voluto dare per essere vicini in un momento che in teoria dovrebbe essere sempre molto bello, però purtroppo vede anche qualcuno che soffre in un ospedale. Siamo stati i primi e tuttora siamo gli unici in Italia ad aver trasformato per una giornata un carabiniere per babbo natale e ci ha entusiasmata questa iniziativa dalla prima volta che ne parlammo con l'allora comandante colonnello Carideo ed è una consuetudine che viene ripetuta da tutti coloro che si succedono nel comandare nel nostro comando provinciale. Un onore al merito, come diceva il nostro sindaco, per l'arma dei carabinieri che è sempre vicina comunque agli adulti e ai bambini in questo caso, ma soprattutto a tutti i volontari che si attivano della tricesta, che si attivano, che lavorano per poter portare avanti questa iniziativa, per prepararsi, per concordarla con i reparti ospedalieri.